Continua la sosta selvaggia negli stalli riservati ai disabili, un fenomeno diffuso in città che viene posto in essere anche nel piazzale della Lavecchia, dell'ospedale di Sulmona e in quello dell'incoronata, dove nei giorni scorsi è scattata la protesta. Parcheggi riservati ai disabili, muniti di regolare contrassegno di autorizzazione, continuano ad essere occupati, dato mobilisti non autorizzati e senza scrupoli. Ma nessuno sembra porre attenzione a queste gravissime violazioni. A segnalare il caso, con tutto sdegno, è Giuseppe Pergola che già diverse volte ha notato questa pessima abitudine che mancanza di rispetto e di civiltà nelle guardie di persone in condizioni di disagio e di sofferenza, vittime dell'indifferenza e dell'egoismo di chi viola le regole e calpesta la dignità delle persone invalide. Nemmeno la campagna sui social, condotta dallo stesso Pergola, sarebbe riuscita a fermare gli automobilisti indisciplinati. Così non va.